Questa sera presentate alla popolazione un intervento importante? Sì, un intervento importante che ha come obiettivo in principal modo la messa in sicurezza di un tratto di strada di via Libertà e la realizzazione di un marciapiede proprio per la sicurezza di quel tratto di strada. Un intervento propedeutico poi a più fasi dove si potrà realizzare il marciapiede che congiunge Ponte Selva al nostro capoluogo Parre. Devo innanzitutto ringraziare poi tutti gli enti sovracomunali che hanno partecipato a questo progetto. Un progetto quindi che non si sofferma solo alla realizzazione del marciapiede ma alla riqualificazione di tutta la sede stradale e di tutti i sottoservizi di quel tratto di strada. In primis vorrei ringraziare la provincia che ha messo a disposizione i suoi tecnici qualificati sia in fase di progettazione che in fase di definizione del progetto esecutivo. Ringrazio quindi l'ingegner Rizzi e l'architetto Gandolfi nonché assessore alla provincia di Bergamo per la disponibilità dimostrata che non si soffermerà solo alla progettazione ma anche alla direzione del cantiere e al controllo della sicurezza del cantiere. In primis vorrei ringraziare anche Uniacque e il suo presidente Paolo Franco perché sin da subito non capito l'importanza della realizzazione di questa opera ma soprattutto hanno capito che l'esigenza era anche quella di riqualificare i sottoservizi e quindi visto che il tratto di strada che porta a Parre è l'unico disponibile si è ritenuto necessario tergiversare un attimo per poi procedere in un unico intervento quindi la sistemazione della fognatura e anche una nuova rete idrica che porta acqua al nostro paese. Importante poi è anche l'intervento di Unigas perché anche in questo caso verrà realizzata una nuova rete di gas che era in uno stato abbastanza critico. Ringrazio Unigas perché l'ente che era pronto a realizzare l'opera sin da subito ma ha dovuto un attimino aspettare in modo tale che il progetto fosse realizzato con tutti i sacri crismi. Sappiamo che l'intervento da cronoprogramma era destinato, è stato calcolato in nove mesi ma la ditta giudicatrice a cui faccio già i complimenti ora che è la ditta Bettineschi ci ha assicurato che l'intervento verrà realizzato in cinque o sei mesi. Questo perché siamo consapevoli che quel tratto di strada lì è importantissimo per raggiungere il nostro paese quindi meno i lavori si porteranno nel tempo e meno disagi ci saranno per la popolazione. Questa sera infatti siamo qui a descrivere sia l'intervento ma anche tutte quelle modalità che saranno necessarie adottare appunto perché la fruibilità della strada sia sempre migliore. Il quadro economico prevede una spesa complessiva di 743.000 euro, IVA compresa e gli attori principali, anzi in questo caso l'attore principale è Uniaque con un montare complessivo delle opere pari a 432.000 euro 250.000 euro invece ce li metterà il Comune di Parre e la copartecipazione di Unigas è pari a 61.000 euro. Parre sarà capofile in questo ambizioso progetto che vede la sinergia di tutti questi enti. Metterei anche una quota a parte relativa alla progettazione stanziata dalla provincia. Indicativamente tra progettazione e direzione dei lavori è stato stimato in circa 50.000 euro questo loro intervento. Il marciapiede sarà conforme ai normativi vigenti quindi 1,20 m e la lunghezza del tratto interessato dell'intervento sono circa 350 metri.